In ogni storia vi sono elementi visibili e altri nascosti. Questo è particolarmente vero nelle storie di guerra. Lo sbarco combinato delle forze alleate avverrà lungo la costa. Soltanto un idiota non si aspetterebbe la Sicilia. Hitler dovrà essere persuaso che il nostro obiettivo sia la Grecia. Dovremmo fornirgli delle prove. Prove false, certo. Direi di cominciare dalla cosa più semplice. Trovare un cadavere. Bello come un dipinto. Sembra morto, Bentley. Potremmo ricorrere a un volto vivo. Lui è il sergente Roger Dearborn. Gin ha detto che volevate parlarmi. Dobbiamo iniziare da... Dal dargli un nome che sembri vero. Che quando i tedeschi lo cercheranno nei registri sarà arduo risalire al maggiore... Maggiore William Martin. Manca una storia d'amore. Volete che io vi dia una mano? Un'operazione in fase embrionale. Un'operazione cavallo di Troia. È stata ribattezzata. Qualcosa di meno ovvio. Operazione Mismith. Collocheremo un ciglio nella lettera. Se al suo ritorno sarà scomparso, sarà un altro segno che è stata letta. Tenteremo di far giungere lì i falsi documenti grazie all'azione di due agenti tedeschi di primo piano. Che si fa se l'inchiostro sbiadisce dopo il suo bagnetto in mare? Credo ne useranno uno idrorepellente. Certo, se un uomo volesse annegare userebbe un inchiostro simile. Sì. Cominci a prepararlo. Mismith deve partire il prima possibile. Per il Maggiore Martin. Per il successo della nostra missione. Per coloro che amiamo. Il dado è tratto. E non si può più tornare indietro.